Qua ci manca che ovviamente è stato il panico, cioè 3.000 persone in mezzo alla strada che però è stato superato da Rob Zombie quando doveva venire ci sono state 3.000 Al terzo posto la prima meccanica, è stato il delirio Sì, chiamiamo tutto il cast, il mio autore Allora, chiamiamo il cast e poi comunque io volevo dire che noi abbiamo una seconda proiezione che è andata esaurita pure quella alle 11 e che il film comunque, visto che c'è stata un'enorme richiesta rimane in programmazione anche giovedì, venerdì e sabato alle 11 Questo volevo dirlo perché... Quindi ditelo a chi non è potuto venire Siete tutti, sono proprio tutto il cast Allora, un film ha aspettato due anni Un film con una gestazione lunga Spiega un po' come nasce No, io in realtà volevo scrivere un fumetto Quindi poi è successo questa cosa Poi è diventato un cortometraggio Poi dal cortometraggio è nato il film Però diciamo ci è sfuggita di mano questa cosa Quindi ecco Speriamo che sia comunque il vostro gradimento Perché comunque per adesso siete solo persone che ci vogliono bene Speriamo che non ci volete troppo Magari noi parliamo dopo, no?